Il Settecento Il Settecento è il secolo del primo boom di massa nella vendita dei libri, che sarà superato in Italia solo in occasione del decennio neo-illuminista negli anni Settanta del Novecento. Il Settecento è il secolo del ritorno alla Terra e della relativa letteratura agraria come reazione all'altro Settecento dominante, quello dei filosofi e dei politici rivoluzionari della rivoluzione francese. Il Settecento è il secolo del boom del teatro. Vince la letteratura civile, che vuole formare l'educazione e il gusto di lettori nuovi ed entusiasti. Due dei padri della letteratura italiana di questo secolo non a caso sono scrittori di teatro, un genere letterario eminentemente pubblico, anzi politico, alfieri e goldoni. Più violento e programmatico il primo, aristocratico di nascita, che voleva spiemontesizzarsi e venne infatti a sgrezzarsi a Firenze ed a Torino, viaggiatore ed amatore impenitente, lettore disordinato ma capace di violenta immedesimazione nei testi letti, Plutarco Machiavelli. Egli provolò le sue tragedie di tiranni e tiranniscidi, di superuomini e di ribelli, dando così vita a un teatro anticonformista fino alla provocazione contro lo spettacolo come intrattenimento. Carlo Goldoni invece tiene i toni più bassi, ma non per questo la sua funzione civile è meno efficace. I suoi eroi positivi sono piccoli eroi che iniziano cambiando il piccolo loro mondo antico circostante con l'influsso del buonsenso borghese e dell'ironia dissacratrice e costruttiva, mercanti e borghesi veneziani che attendono a esercitare onoratamente il loro mestiere, con la stessa affettuosa saggezza con cui amministrano la propria famiglia, versus i nobili ricchi di vacua alterigia e rappresentanti di un mondo e di un sistema di valori sorpassato che Goldoni si limita di mettere alla berlina mentre in Francia andrà sotto la ghigliottina. Il suo pubblico è quello preleghista di oggi, quindi il borghese veneziano è il più sano e dritto mentre quello delle altre regioni d'Italia presenta i difetti tipici delle maschere popolari che li rappresenta. Questo si vede soprattutto in un classico recentemente ristampato da Silvio Ulivelli, direttore della casa editrice Sandron e che io ho brevemente recensito, virgolette aperte. Il napoletano maleducato che parla per insulti, il fiorentino troppo colto e per questo incomprensibile buffo, ed il veneziano ricco di buon senso pratico, il tutto in un tripudio di dialetti e vernacolo sullo sfondo di una commedia degli equivoci, sarà sicuramente piaciuto ai leghisti del Settecento, come potrebbe risultare gradito a quelli di oggi. Il cruscante Cavaliere del Fiocco è la caricatura del pedante presuntuoso, che non perde occasione per denigrare il tasso in nome dei rigidi canoni accademici. Accanto a lui si muovono altri personaggi divertenti, come il cortigiano Don Gerardo, il napoletano Don Fazio e il brillante veneziano Tomio. Chissà che molti luoghi comuni sul carattere degli italiani non risalgano proprio anche a questa opera del commediografo veneziano. Stiamo parlando infatti della trama di una commedia del Goldoni meno noto, in questi giorni in uscita nelle librerie dopo essere stata ristampata a Firenze dalla casa editrice Sandron. Chiuse virgolette Ecco una cosa di cattivo gusto che voi studenti non dovrete mai fare, autoscitarvi. Ecco come Silvio Olivelli introduce la commedia. Questa nuova edizione del Torquato Tasso di Carlo Goldoni presenta un commento agile ed essenziale, centrato sull'interpretazione delle tante bizzarrie linguistiche del testo, differenziandosi dai precedenti più vicini nel tempo, risalente agli anni Ottanta e Novanta. Una versione tascabile ed economica adatta a ogni tipo di lettori di questa brillante commedia dedicata al grande cinquecentista, nella quale l'autore mette in ridicolo la saccenteria di certi accademici della Crusca e la loro pretesa di fare accettare agli scrittori, in pieno Settecento, la lingua del Trecento. Il cruscante e cavalier del fiocco è la caricatura del pedante presuntuoso, che non perde occasione per denigrare il tasso, in nome dei rigidi canoni accademici. Tanto a lui si muovono altri personaggi divertenti, come il cortigiano Don Gerardo, il napoletano Don Fazio e il brillante veneziano Tomio. Sviluppata in cinque atti e scritta in versi martelliani, la commedia alterna situazioni drammatiche e comiche e combina svariati registri linguistici, i dialetti napoletano e veneziano, l'italiano arcaico e toscaneggiante del cavalier del fiocco, e infine gli eleganti versi del tasso, citati in vari luoghi. Un gustoso pastiche ricco di espressioni stravaganti, di sicuro effetto comico. Nella bibliografia goldoniana, il torquato tasso occupa, assieme al Molière, 1751, e al Terenzio, 1754, una posizione a parte. Questi tre testi dedicati a scrittori nascono da motivazioni in parte extra-artistiche, in anni segnati da polemiche riserve sulla riforma teatrale del grande commediografo. Nel torquato tasso, Goldoni sceneggiò la propria difesa dagli attacchi di natura linguistica rivoltigli da quei detrattori che lo tacciavano in nome di un modello di classica purezza, di eccessive concessioni al natio dialetto veneziano. L'autore della Gerusalemme liberata, perseguitato dagli accademici della Crusca, si prestava quindi a meraviglia, a rappresentare in quel momento il punto di vista del Goldoni, filo conduttore della commedia e l'infelice passione amorosa di torquato per la nobile Eleonora, favorita dal Duca di Ferrara. La scoperta di un madrigale del poeta in lode di una Eleonora, a corte venerano addirittura tre, porta, dopo una prolungata trama di equivoci e dilazioni, all'identificazione della dama preferita e alla conseguente caduta in disgrazia di torquato presso il Duca. Attorno a questo nucleo drammatico si ripana il tema, molto meno serio, della contesa sulla patria del Tasso. Arrivano a Palazzo due emissari di Napoli e Venezia che cercano con ogni argomento di convincere il poeta a seguirli nelle rispettive città dove sarebbe accolto quale figlio legittimo e illustre. Vive a corte anche il cruscante Cavaliere del Fiocco, caricatura del pedante, sciocco e presuntuoso che non perde occasione per denigrare il povero poeta in nome dei rigidi canoni dell'Accademia Fiorentina. Sviluppata su cinque atti e scritta in versi martelliani, la P.S. alterna situazioni drammatiche e comiche e combina svariati registri linguistici. I dialetti napoletano e veneziano, l'italiano arcaico e toscaneggiante del Cavaliere del Fiocco e infine l'elegante versificazione tassiana ampiamente citata. Un gustoso e virtuoso pastiche, prodigo di espressioni grotescamente stravaganti ai cui comici effetti va attribuito in gran parte il suo durevole successo. Il testo è corredato da un'introduzione e da numerose note, soprattutto linguistiche. Ecco l'incipit dell'atto primo, scena prima, torquato solo al tavolino pensando. Muse, canore muse, amor suave foco, umile a voi mi volgo, voi nel gran duopo invoco. Ogli nemici a destra, che all'onor mio fan guerra, a sinistra ho colei che cove gli occhi a terra. Mi insidiano la pace, mi insidiano la vita. Soccorretemi, o muse, dammi Cupido Aita. Scrivasi, e che? Si scriva contro un nemico audace. No, dico lei, si scriva, che mi tormenta e piace. Che se torbida, mi invidia, ma fanne, ma dolora, conforto tu mi rechi, bellissima Eleonora. A te finora non dissi, chi io tamo e chi io sospiro, tacito, nutro il fuoco, smanio, pieno, deliro. Dei miei deliri il mondo s'accogge e mi deride, ma ignota è la cagione che me da me divide. Fine citazione. Carlo Goldoni, Venezia, 1707, Parigi, 1793, è fra i maggiori autori di teatro del 700 europeo. Collaborò con varie compagnie veneziane e dal 1762 si trasferì a Parigi. scrisse 150 commedie e, inoltre, libretti d'opera intermezzi e i celebri memoir in francese. Con la sua riforma teatrale soppiantò la commedia soggetto, commedia dell'arte, con quella scritta di impianto realistico, centrata sullo studio di ambienti, caratteri e psicologie. Il pubblico di Goldoni è italiano e interclassista. A lui si rivolge, con un veneziano continentalizzato, conoscendo il commediografo benissimo, il volgare fiorentino, come dimostra ne La Locandiera, unica sua commedia tutta in italiano volgare. Goldoni riforma il vecchio filone istintivo e popolaresco della commedia dell'arte in teatro colto dal testo dialogico letterario ben definito, chiaro e rivolto a tutti. Il suo successo, che dura ancora oggi, dimostra la sua capacità di capire la psicologia spicciola di tutti i personaggi e di tutte le classi sociali e in questo senso rappresenta una delle più belle vittorie dell'illuminismo italiano. Il terzo grande del Settecento è l'abate Giuseppe Parini, la cui fama è legata soprattutto al poema satirico Il giorno, in cui egli descrive l'inutile giornata di un giovane Patrizio Lombardo. Il Parini è un solido letterato con un forte bagaglio di letture classiche, sensibilissimo ai problemi della forma e della proprietà del linguaggio letterario, insofferente di ogni avanguardismo, naturalmente portato dalla severa disciplina letteraria che egli si impone alla misura e all'autocontrollo che rendono per contrasto più esplosiva la sua satira dal di dentro della classe nobiliare milanese. L'impegno civile e la responsabilità collettiva della letteratura uniscono di nuovo i letterati italiani come ai tempi dell'umanesimo, mentre inizia a crescere una filosofia europea comune versus la comune nemica, la teologia cattolica romana. Negli anni delle bonifiche leopoldine della Maremma con Ximenes e della Valdichiana con Fosso Mbroni, inizia la linea verde della letteratura italiana, il settecentesco ritorno anche dei nobili alla rendita fondiaria, a cause profonde storiche ed economiche, ma sicuramente in periodi agitati come quelli intorno al 1789 la tranquilla vita dei campi divenne un ideale sempre più perseguito ricontro all'attivismo frenetico delle città. L'agricoltura è di moda nel settecento italiano, i poeti ambientano le loro favole in Arcadia e qualcuno giunse a scrivere poemi sulla coltivazione del riso o della canapa. Le accademie e le società agrarie si moltiplicano, la più celebre fu la fiorentina Accademia dei Georgofili fondata nel 1753. Il grande economista Genovesi prefazione il trattato L'agricoltore sperimentato del toscano Cosimo Torinci, nel quale si può leggere questo elogio dell'agricoltura che ben sintetizza gli entusiasmi del secolo. Virgolette Questa solarte esercita il corpo, ne ricrea le forze, fa respirare un'aura più elastica, allunga la vita. Questa nutrisce le dolci speranze, i semplici e onesti amori, genera l'umanità e la dolcezza di una vita compagnevole ma senza maschera. Nemica della furberia dell'alterigia della guerra, se Dio medesimo non avea fatto lo studio dell'uomo innocente, perché credere che non possa essere l'amabile occupazione del reo? Sono tentato a credere che appunto quest'essersene distaccato ed aver tirato dietro a pensamenti voti sia una delle pene a cui la nostra stoltezza è qua giù condannata. La letteratura italiana partecipa anche della rivoluzione culturale illuminista, la prima promozione culturale di massa laica di cui sia stata teatro all'Europa moderna, che non sia partita da Roma, bensì da Parigi. Anche in Italia il mercato del libro attraversa un autentico boom, gli editori e gli stampatori si moltiplicano, i loro cataloghi si arricchiscono, le tirature aumentano in misura cospicua, i periodici sono sempre più numerosi e specializzati, riviste letterarie di agricoltura, arte e commercio, di medicina, riviste femminili, novelle, memorie, magazzini, gazzettini, giornali enciclopedici, mercuri e via dicendo. Le opere straniere vengono tradotte in gran copia e con notevole tempestività, come poi anche ai tempi del romanticismo e con la bella époque agli inizi del Novecento. La enorme mole della enciclopedie di Diderot e d'Alembert non spaventò gli editori italiani. Nemmeno l'histoire de Charles XII di Voltaire, tradotta nel 1734 a soli tre anni dalla sua pubblicazione in Francia, nemmeno tanti testi ginevrini di stampo protestante, nemmeno la nuova Eloisa di Rousseau, nel 1764, due anni dopo, la prima edizione ginevrina, tutti testi senza imprimatur ecclesiastico romano, spesso in edizione pirata, con indicazione di luoghi di stampa fittizio e macinari, Philadelphia, Amsterdam, Cosmopoli, per sfuggire ai rigori della censura. Nel Settecento erano poi molti gli italiani in grado di leggere gli originali perché conoscevano il francese ed erano anche in grado di scriverlo come Goldon e Casanova, che in questa lingua scrissero le loro memorie, ma anche economisti come il Galeani e critici letterari come il Barretti. L'inglese era meno noto allora. Album del libro si accompagna a quello degli spettacoli teatrali. La Scala di Milano viene inaugurata nel 1778, La Fenice di Venezia nel 1790. Agli scrittori di teatro non mancava il lavoro e Goldoni prese e mantenne l'impegno di scrivere ben 16 commedie nuove in una sola stagione. Con quale italiano contattare ora il più vasto pubblico? Con una lingua letteraria depurata da sovraccarichi e amplificazioni secentesche barocche e liberata dal fiorentinismo arcaico e conservativo dell'Accademia della Crusca. Pietro Verri e Cesare Beccaria, pratici milanesi, vanno oltre assieme ai collaboratori della rivista Il Caffè e chiedono di esemplare l'italiano giudiziosamente adattandolo all'essico e alle forme della trionfante lingua francese. Perché se italianizzando le parole francesi, tedeschi, inglesi, turchi, grechi, arabe, sclavone, noi potremmo rendere meglio le nostre idee, non ci asterremo di farlo per timore o del casa o del crescimbenio o del villanio di tant'altri che non hanno mai pensato di erigersi in tiranni delle menti del XVIII secolo. Protestiamo che useremo nei fogli nostri di quella lingua che si intende dagli uomini colti dal reggio Calabria sino alle Alpi. Chiuse virgolette. Un italiano moderno, anche se francesizzato, sarebbe stato insomma uno strumento di comunicazione più funzionale, più fruibile e in definitiva più nazionale di una lingua pedissequamente letteraria. Era una posizione estremista ma chiara riguardo ai termini fondamentali del problema lingua, cioè come colmare il fossato esistente tra la lingua dei chierici e quella dei semplici, tra l'italiano letterario e quello parlato. Non era fattibile una soluzione magica istantanea, quindi fecero testo agli scrittori del momento che avevano più cose nuove da dire. Si usò la loro lingua che cercava di parlare anche al popolo che in piccionaia assisteva agli spettacoli e se non capiva gettava uova marce. Goldoni ricorse nelle sue commedie a un dialetto veneziano ingentilito e civile più ricco dell'italiano letterariamente stereotipo della crusca. C'era poi il carattere utilitario e politecnico della nuova cultura illuminista che allegava numerose tavole esplicative al testo regolativo ma richiedeva anche il superamento della distanza tra lingua degli umanisti e lingua degli scienziati. Gli scritti di economia del Galeani e dell'Ortes vanno illuministicamente in questa direzione abbinando qualità della lingua a consumo di massa. l'economia è la scienza nuova per eccellenza del secolo dei lumi come si vede sfogliando alcuni titoli che allora andavano per la maggiore. Degli elementi di economia politica scrisse Cesare Beccaria quello che chiese l'abolizione della pena di morte. Delle meditazioni sull'economia politica il suo amico Pietro Verri un dell'economia nazionale il bizzarro e geniale monaco veneziano Gian Maria Ortes delle elezioni di commercio e di economia civile scrisse il napoletano genovesi. Ma l'economia per quanto nuova e protestante secondo Weber e la nascita del capitalismo era una scienza vasta già allora di cui opere illustrative di singoli aspetti specialistici quali le monete e il loro disordine verri beccaria galliani il commercio dei grani bandini e ancora galliani del pesce pagano dell'agricoltura. Nasce la merceologia la geografia economica la descrizione di viaggi e paesi lontani quali la Russia Algarotti a Costantinopoli Casti nelle lontane e libere americhe Mazzei terre esotiche e lontane ma anche terre vicine che le nuove strade carrozzabili iniziano a far conoscere come l'Italia meridionale descritta da Giuseppe Maria Galanti e da Francesco Longano e poi la scienza raccontata dal fisico Lazzaro Spallanzani e la volgarizzazione scientifica il mondo di Quark di allora come il celebre newtonianesimo per le dame dell'Algarotti e poi le prime opere di statistica tecnologia e arti applicate scritti su tutto quello che poteva contribuire alla pubblica felicità che allora si riteneva raggiungibile attraverso la scienza e la tecnica anche se Leopardi non era d'accordo della pubblica felicità scrisse Ludovico Antonio Muratori più noto per la storia e la letteratura delle riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli scrisse Giuseppe Palmieri un della felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie il piemontese Gian Battista Vasco e l'elenco sarebbe lunghissimo anche le istruzioni per il montaggio della chigliottina garantivano un trapasso più felice al condannato Il secolo della rivoluzione francese e dell'illuminismo l'apoteosi della modernità è conservatore in lingua e letteratura La più grande rivoluzione formale non la fanno gli intellettuali giacobini bensì il melenzo metastasio con i più leggeri cantanti Cresce l'Accademia della Crusca ultimo tentativo di spremitura del meglio della grande stagione del Rinascimento che si propone di separare la farina buona dalla Crusca cattiva con i cruscanti come arbitri che mostrano il cartellino rosso a neologismi e forestierismi chiusi negli antichi sogni di gloria della triade trecentesca Dante Petrarca Boccaccio siamo noi la cultura superiore gli altri europei sono semi barbari non la pensano così scienziati innovatori illuministi che in Italia vivono anche loro di rendita sulla prosa volgare chiara e distinta di Galileo ma affermano che alcune parole straniere sono indispensabili in italiano per appropriarsi dell'antropologicamente superiore cultura nordica come dimostra la prassi storica finiscono le idealità nobiliari medievali definitivamente considerate residui di oscurantismo saranno i borghesi del Lombardo Veneto a fare l'unità d'Italia ed a creare il primo boom economico della storia unitaria copiando la rivoluzione industriale dai più pratici anglosassoni sono cinque i nomi più importanti della letteratura settecentesca Goldoni Parini Alfieri Verri Beccaria i nobili sono dissoluti non sono più la classe progressiva io Parini Abate che sono stato loro precettore ve ne spiego i limiti i tic le nevrosi e le miserie quotidiane non c'è uomo santo perfetto per il suo cameriere che lo conosce bene anche quando non è sotto i riflettori della sua corte la cultura esce dai seminari e dalle corti si diffonde nella classe media attraverso i caffè i teatri e le accademie Goldoni mette in scena la vita giusta e ordinata e saggia della borghesia settentrionale mentre Verri e Beccaria accusano la medievale amministrazione della giustizia che in Italia ancora non conosce l'umido oltralpe dove Diuma rivela in un romanzo la drammatica storia della maschiera di ferro prigioniera nella bastiglia assaltata e distrutta dai rivoluzionari giacobini il progresso culturale della società nuova inizia ad estromettere la chiesa cattolica dalle magnifiche sorti e progressive dell'umanità per dirla con lo sfiduciato Leopardi la letteratura si laicizza anche in Toscana il granduca austriaco e cattolico caccia i gesuiti perché la fede è ormai un residuo del passato una cosa da bambini dirà il ministro della pubblica istituzione Giovanni Gentile negli anni del concordato la forma mentis che inizia ora con la marginalizzazione della chiesa l'eclisi del latino con la rivoluzione i volgari nazionali prendono il posto della lingua morta comune in tutte le università d'Europa le elezioni universitarie si tengono finalmente in italiano volgare la cultura si diffonde a macchia d'olio ma è di nuovo la corte ad inventare quel miscuglio di testo scritto canto scenografia disegnata ed architettonica che diventerà l'opera dei teatri ottocenteschi ed il musical dei film statunitensi Pietro Metastasio è il riformatore del melodramma per eccellenza e lo fa dall'interno dell'Accademia Romana inventando anche la grande canzone napoletana che dialettalizza alcune sue tipiche situazioni amorose come l'amata che se ne va che fa i capricci non comprendendo la serietà del sentimento altrui la lontananza che fa dimenticare chi non s'ama e viceversa il melodramma unisce poesia e musica ed è comunemente ritenuto una forma minore della letteratura poiché i testi sono facili e cantabili pensati per catturare l'attenzione del pubblico e quindi anche molto ripetitivi e stereotipati nell'espressione dei sentimenti sono insomma gli antenati delle nostre canzoni d'autore che raggiungono il culmine per qualità dei testi e sentimento nella canzonetta napoletana tradizionale otto novecentesca il melodramma ebbe un successo straordinario perché riusciva a raggiungere molte più persone rispetto al poema epico o anche semplicemente alla poesia e contribuì in modo decisivo alla formazione di una lingua nazionale diffondendo una base linguistica comune su strati più ampi della popolazione rispetto alle altre forme scritte nel seicento in particolare il melodramma fu terreno di riflessione per una riforma del genere che doveva seguire due binari da un lato una maggiore dignità del testo che portò alla creazione del libretto come genere a sé stante e dotato di dignità letteraria seppure non riconosciuta seriamente dagli intellettuali per così dire alti dall'altro l'idea di inserire nella trama anche temi eroici derivati soprattutto dalla contemporanea fortuna in Francia dell'opera di Racine in questo dibattito metastasio comprende la natura di genere popolare del melodramma e non ha paura di nasconderla la sua scrittura è interessata e curiosa per le passioni umane per i sentimenti più forti che agitano gli animi delle persone e che quindi sono di immediata comprensione per il pubblico suscitando anche forti reazioni di immedesimazione e partecipazione emotiva nel testo e quindi nella trama si contrappongono le parti legate all'azione che conferiscono dinamicità alla vicenda a quelle legate ai sentimenti tutto ciò viene espresso con grande chiarezza e linearità e spesso confina anche sconfina anche in un'eccessiva facilità e banalizzazione della materia lo spazio viene lasciato all'analisi dei turbamenti del cuore visti nel loro contrasto con gli obblighi della moralità e della società e alle incertezze dei personaggi che non sanno mai decidere e decidersi soprattutto in campo amoroso data la delicatezza con cui si guardava ancora le questioni di cuore ciò non toglie che l'Enea Virgiliano commuove quando preferisce il dovere al piacere mentre quello metastasiano sembra più leggero quando declama nella didone abbandonata andata in scena a Napoli nel 1724 virgolette se resto sul lido se sciolgo le vele infido crudele mi sento chiamare e intanto confuso nel dubbio funesto non parto non resto ma provo il martire che avrei nel partire che avrei nel restare chiuse virgolette la riforma di metastasio è legata soprattutto alla fissazione definitiva di alcuni artifici ad esempio le entrate e le uscite dei personaggi e dei caratteri del libretto moralità presenza dell'idillio e della tragedia alternanza tra realtà e finzione il testo è rivoluzionario perché non deve più secondo l'autore rispettare le tre unità aristoteliche di tempo di spazio ed azione ma deve puntare piuttosto sull'armonia delle parole che deve risultare naturale all'orecchio dopo Galileo in scienza adesso è metastasio che uccide aristotele in poesia teatro e letteratura nel testo divide le ariette dai recitativi le prime sono cantabili ed esprimono la commozione rispetto a un fatto della vicenda i secondi sono scritti in endecasillabi e sono il luogo della riflessione dei personaggi rispetto agli avvenimenti messi in scena sempre funzionali al dramma che viene rappresentato anche metastasio è uno bravo di lui colpisce il dominio sicuro sulla forma e sulla lingua grande la sua competenza nell'uso già barocco delle figure retoriche per impreziosire il testo ma anche per permettere una maggiore evocatività della voce umana il suo linguaggio lirico è limpido ed immediato per questo molto più comprensibile di quello passato la sua attenzione a livello fonico si appunta sulla musicalità del testo che veniva poi musicato da un altro artista talvolta senza la presenza del librettista metastasio voleva quindi evitare che la musica prendesse il sopravvento sul testo appunto per restituire dignità alla componente letteraria dell'opera infine l'uso di un bagaglio lessicale selezionato e limitato di maniera barocca quasi come di bottega pittorica che ripete tradizionali motivi visivi di successo ebbe come effetto la conquista di che ancora parlava solo il dialetto e si trovava adesso a canticchiare le sue arie più famose come avverrà un secolo dopo con Verdi e Puccini l'autore ebbe cura di difendere il suo operato mostrando consapevolezza di quanto stava facendo ma anche una certa scontentezza diceva la mia apparente facilità è frutto di laboriosissima cura io sono per mia sventura dubbioso sino al vizio ma questo il settecento è soprattutto il secolo dell'illuminismo provengono da oltre le Alpi sedicenti illuminati seguaci della Dea Ragione la lotta contro l'irrazionalità e contro i pregiudizi e l'ignoranza politica da questo deriva la celebre espressione lumi della ragione nasce con Immanuel Kant il cui pensiero è da considerarsi l'espressione più alta dell'illuminismo filosofico in Italia l'illuminismo assume caratteri particolari e specifici rispetto alla Francia che è il paese di irradiazione del nuovo modo di pensare in politica ed economia è infatti pragmatico e tende a tradurre in prassi la teoria primeggiano Napoli e Milano nella città partenopea la riflessione di stampo filosofico è astratto e si pratica soprattutto nelle accademie e nei circoli ossia in centri chiusi in cui gli intellettuali comunicano tra loro le loro idee trovarono terreno fertile nella politica di Carlo di Borbone sul trono dal 1734 ma vennero arrestate poi nel 1759 dall'ascesa al trono di Ferdinando IV torneranno a farsi sentire con i moti di fine secolo la rivoluzione partenopea del 1799 repressa nel sangue e idealmente continuata da Gioacchino Mugnoura che da Napoli lancerà anche l'appello alle armi per l'unità della penisola poco prima di venire sconfitto dalla restaurazione dove Metternich ribadisce che l'Italia è soltanto un'espressione geografica non culturale tanto meno politica a Milano invece i temi sono principalmente economici e politici e la riflessione di stampo concreto si attua in un clima di riformismo illuminato borghese che riprende quello austriaco concesso dall'alto a Milano i riformisti a Napoli i rivoluzionari il genere letterario nuovo è quello del libello pamphlet ossia un breve trattato densamente argomentato in cui l'autore espone le proprie idee e giustifica le riforme che vuole proporre l'antenato della moderna saggistica è comune che gli intellettuali si rispondano tra loro con opere successive instaurando così un dialogo attraverso la letteratura espressione significativa dell'illuminismo lombardo è il caffè l'antenato dell'espresso letture forti che tengono svegli come un buon caffè all'italiana un periodico il caffè voluto dai fratelli verdi Alessandro e Pietro l'antenato delle riviste culturali che si affermano in Italia come genere di largo consumo solo con il secolo ideologico per eccellenza il novecento col caffè di beccaria il genere letterario minore chiamato giornalismo allarga di molto il numero dei suoi lettori prima di lui già le altre settecentesche gazzette letterarie erano uscite dal ristretto perimetro della vecchia repubblica letteraria italiana per una divulgazione che tramite gli articoli superasse la lettera forma principale di comunicazione e scambio alla pari di nuove idee fra intellettuali i gazzettieri si rivolgevano a lettori anonimi attraverso forme comunicative standardizzate ed in volgare moderno mentre ancora l'università si comunicava in latino il passaggio all'inizio non fu netto e così le gazzette erano opera di eruditi che pubblicavano ritagli delle lettere dei propri corrispondenti così Giovanni Lami il redattore delle fiorentine novelle letterarie proprio dalle lettere dei suoi numerosi corrispondenti traeva le notizie e commenti per la sua rivista trasformando i dotti amici in involontari collaboratori di riviste così da Parigi si diffuse anche in Italia il nuovo verbo illuminista la punta più avanzata di questi giornali engagé nella lotta contro i più arretrati istituti dell'antico scime fu il caffè la rivista milanese dei fratelli verdi e di Cesare Beccaria che sin della testata evocava luoghi diversi dall'accademia dove discutere indicando la via della modernità l'intellettuale con loro non è più solo consultore del principe ma protagonista in prima persona degli avvenimenti dei quali si propone come guida e interprete di fronte a un'opinione pubblica sempre più articolata in correnti gruppi politici e culturali il potere reagisce con la censura dei giornali di opposizione per mantenere l'ordine pubblico nasce nel settecento il giornalismo moderno che lega cultura e unità d'Italia parlando al popolo della piccola e media borghesia alfabetizzata a cui propone i modelli di civiltà e modernità offerti da Inghilterra e Francia alla fine dell'ottocento il giornalismo è la forma di comunicazione nuova fonte di progresso capace di svecchiare la cultura tradizionale nel 1880 Dario Papa affermava virgolette già quale l'abbiamo oggi il giornalismo ha prodotto una vera e grande rivoluzione nella politica come nella letteratura nella storia come nella filosofia esso ha applicato si può dire la potenza e la rapidità del vapore alle opere dell'intelligenza ha imposto a quest'ultima la regolarità di quella macchina che si chiama la periodicità divisosi nei battaglioni agguerriti delle riviste e nelle squadriglie dei giornali quotidiani esso ha preso la direzione di ogni cosa facendo guerra a coltello ai pedanti e pesanti chiuse virgolette questo giornale si rivolge a un pubblico ancora più ampio trattando di cultura politica intrattenimento attraverso anche il romanzo d'appendice con Salgari la quarta pagina è dedicata alla pubblicità nascono due grandi quotidiani nazionali il Corriere della Sera 1876 e il Messaggero 1878 che assumono soprattutto letterati Persezio Barrili Scarfoglio D'Annunzio che inventa la terza pagina culturale ai primi del Novecento sul giornale d'Italia di Alberto Bergamini ma che aveva iniziato con la cronaca rosa e mondana sulla cronaca bizantina De Amicis il primo reporter che segue l'esercito piemontese che nel settembre del 1870 entra a Roma e poi per la nazione racconta i viaggi in Spagna Olanda Marocco Costantinopoli gli scandali si occuperanno gli scapigliati sul milanese Gazzettino Rosa iniziano come giornalisti e diventano letterati come poi Montanelli Fallaci Biagi Bocca Scalfari Terzani Montanelli è il primo dalle colonne del settimanale Tempo nella primavera del 1943 ad interrogarsi sulla prossima estinzione dell'inviato speciale in guerra vittima della censura conseguente alla guerra totale nel secondo dopoguerra sono i settimanali a mostrare più vitalità rispetto ai quotidiani ingabbiati in logiche partitiche poi arriva la televisione di linguaggio dell'immagine e mette in crisi giornali che non sono in grado di approfondire in tempo reale la notizia che viene data il giorno prima dallo schermo parlante il manifesto e la repubblica continuano a spiegare con successo l'italia e il mondo ad un pubblico non locale poi arrivano le testate online molte pagine alte di giornalismo sono assimilabili a prosa d'arte ma manca ancora una antologia dei pezzi che hanno fatto la storia perché pesa ancora la condanna di croce che giudica il giornale inferiore al libro il fatto meno importante delle opinioni che genera il breve spazio dell'articolo poco pesante rispetto al voluminoso testo è destinato l'articolo ad incartare il pesce perché dice croce quando si è demostene e non si è giornalisti ma demostene quando una pagina è degna di antologia è cosa d'arte e non di giornalismo ma torniamo al 700 inizia allora il giornalismo nel 700 forse però l'opera più rappresentativa soprattutto per la sua risonanza in Europa del 700 è dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria il testo viene scritto nel 1763 pubblicato l'anno successivo Beccaria il più famoso degli illuministi milanesi era appunto milanese di nascita ed era laureato in legge si tratta di un particolare interessante perché non siamo di fronte a un letterato di professione ma a un giurista che si occupa di scrittura l'opera viene scritta dopo una serie di discussioni sul tema con altri intellettuali tra cui i fratelli Verri che rivendicarono la loro autorità sull'opera è stato dimostrato però che lo stile è senza ombra di dubbio il suo ma il litigio è interessante perché documenta la genesi delle opere e il loro carattere di discussione all'interno della laica accademia per quanto riguarda la storia della lingua è innovativo l'uso dell'italiano per un tema giuridico e di solito si esprimeva in latino l'idea di Beccaria è che solo un cambiamento giudiziario è in grado di cambiare la società anche nei suoi aspetti legati alla superstizione Beccaria è l'antenato di mani pulite si tratta di una riflessione che avrà poi vasta risonanza nelle opere di Manzoni suo nipote che prima approva e poi corregge il pensiero di Beccaria si basa sul concetto di tolleranza e di uguaglianza la trattazione è squisitamente argomentativa e comprende alcune distinzioni importanti che sono poi alla base del pensiero giuridico moderno come la differenza tra pena e reato o quella tra peccato e crimine inizia con Beccaria quel filone di pensiero che afferma la felicità umana essere conseguibile attraverso leggi giuste ben fatte che diventa oggi l'etica dei nuovi diritti di